Sono giorni intensi di lavoro per il direttore sportivo della Virtus Lanciano, Luca Leone, giorni in cui si sta facendo pressing su varie società importanti come Atalanta, Milan, Roma e Lazio per poter ottenere prestiti di giovani talenti da far crescere e consacrare. I contatti più frequenti sono quelli con l'Atalanta, società con la quale i rossoneri sono in ottimi rapporti. In primis c'è la volontà di ottenere il prestito del terzino destro Andrea Conti, classe 94, e dell'altro terzino Valerio Nava, anche lui ventenne. In attacco resta forte l'interesse per diversi giocatori come il franco senegalese del Catania, Sulemane, Ducarà, l'anno scorso in prestito alla Juve Stabia, Ettore Mendicino della Lazio, Abudi Hopp e in modo particolare Marco Frediani. L'esterno d'attacco della primavera della Roma, classe 94, l'anno scorso è stato in forza all'Aquila di Pagliari, Lega Pro, disputando un'ottima stagione. La società Rosso Blu ovviamente intende rinnovargli il prestito e in questi giorni ne sta parlando con la Roma. La Virtus però sembra intenzionata a rintavolare ugualmente la trattativa con il club capitolino, facendo leva soprattutto sul fascino della serie cadetta, che potrebbe essere una ghiotta opportunità per Frediani per mettersi in mostra. A colpire positivamente i frentani è la facilità del giocatore romano di adattarsi ai diversi ruoli di metacampo e attacco. Altri giovani centrocampisti sul taccuino di Leone sono Gabriela Pelpires, brasiliano classe 93 della Juventus, lo spagnolo Miguel Angel, Sainz Masa, scuola Barcellona, ed il brasiliano Pompeu da Silva Ronaldo, classe 90 dell'Empoli. Per quanto riguarda infine Roberto D'Aversa, il 9 luglio scadrà il bando per poter frequentare il corso UEFA Pro a Coverciano per ottenere il patentino d'allenatore di serie A e serie B e saranno 25 i posti disponibili. Se D'Aversa rientrerà nel corso, la Virtus potrà ottenere la deroga per far sì che diventi il primo allenatore e fare così la presentazione ufficiale. Una semplice formalità quindi perché per la società l'attuale direttore dell'area tecnica è già da diversi giorni il nuovo allenatore per la prossima stagione.